Continuiamo con un messaggio importante per questo tempo della fine, il messaggio intitolato La scaltrezza delle due spie di Gerico. Si può imparare tanto da questa storia e questo perché abbiamo visto una notizia in un giornale, tempi, una notizia che è triste e spaventosa, però questi tempi sono già venuti. E' una cosa successa in Irlanda. Allora, le due spie di Gerico, Giosuè capitolo 2, capitolo 2, le due spie di Gerico. Potete leggere tutta la storia, molto molto interessante. E' un articolo di giornale, qui si chiama Tempi It, e dice l'articolo, dice Irlanda, ha arrestato il prof che si rifiuta di usare un pronome neutro per uno studente che è t-r-a-puntini-puntini-n-s. Cioè, questo per il computer internet. T-r-a-puntini-puntini-n-s. Posto? Si. Buon intenditor, poche parole. Cioè, ha usato il pronome sbagliato? Si, lo ha usato al maschile, invece come quello la voleva, avrebbe voluto il femminile. Capito? E allora è stato arrestato dalla polizia. E questo in Europa? Si, questo in Europa. Qui non siamo in Cina o all'era sovietica. Quindi qui nell'Occidente c'hanno questa finta democrazia sotto la quale, c'è una democrazia però è finta, e sotto questa copertura di finta democrazia fanno quello che vogliono. C'è tutto giustificato, il diritto di qua, il diritto di là, la mia libertà, io, 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 io. Io ho il diritto, quindi tu hai il dovere, io ho il diritto e tu hai i doveri. Quindi, gloria a Dio. Allora, prima di tutto è riuscito un piccolo messaggio di Gesù sul soggetto. Se permetti te lo passo, ci sono qualche appunto. Senz'altro, si, vai avanti. Nel nome di Gesù Cristo. Quindi, stiamo entrando nel tempo della fine, ci vuole usare una saggezza che prima, cioè adesso, prima a volte non era necessaria, adesso è indispensabile. Una saggezza potente. Ameno. Va bene, questo è il messaggio. Ameno. Gesù dice, amati figli, vi chiamo ad esercitare la saggezza. Vengono i tempi dei martiri, ma la vostra condotta deve essere normalmente di estrema prudenza. e attraverso la mia prudenza, la mia assennatezza e accortezza che io spesso vi proteggo dagli inganni del nemico. A volte io amo di salvare i miei miracolosamente, come l'aprire un varco nel mare per i miei figli di Israele che devono attraversarlo, o di uccidere 185.000 assiri in una notte, io faccio questo. Ma questo aspetta a me, io decido se e quando. Voi siete chiamati a camminare in saggezza, prudenza ed umiltà. Vengono tempi difficili. Ma non avete a preoccuparvi. Ho già dislocato i miei angeli, ciascuno al suo posto. Il dragone e la sua bestia, Anticristo, le loro orde, sono perfettamente sotto il mio controllo. Non potranno in nessun modo eccedere i limiti che io ho imposto loro. La mia Chiesa fedele che mi cerca, mi ubbidisce e mi segue, la quale non è ribelle o disubbidiente, non avrà niente da temere, mai. Non temete, amati. È piaciuto al Padre di darvi il regno e piace a Lui di proteggervi e lo farà sino in fondo. Vengono grandi distruzioni, ma non per la mia Chiesa fedele. Viene la tribolazione, ma voi, miei fedeli, camminerete con me, come Israele camminò con Mosè nel mezzo del Mar Rosso. Così voi camminerete nella tribolazione e alla fine, come il mare ricadde e distrusse gli egizi, egiziani Anticristo, così che io nella mia ira rovescerò la mia tribolazione, la mia tribolazione, sulle teste dei nuovi egizi e saranno sommersi sotto la mia ira e nessuno di loro scamperà nel mio giorno del Signore, il giorno di Armageddon. Grazie, Signore Gesù. Una domanda voglio chiederti, Giuseppe. In questa profezia Gesù dice, siete chiamati di camminare in saggezza, prudenza e umiltà. E come fai, in una situazione come questo professore in Irlanda, come fai a sapere esattamente cosa dire? Qual è la saggezza di Dio qui? Cioè tu cosa faresti, Giuseppe, se incontri un giorno una persona tale che si offende perché tu hai usato il pronome sbagliato secondo lui? Tu cosa fai? Ma cosa fai? A volte devi fare buon viso e creativo gioco, non stai rinagando il Signore. A volte devi assecondare per poter andare davanti a combattere. A volte non puoi mostrarti troppo belligerante. Capito? Come quelli che sono contro la siringata, vociferi, proclame, quelli sono perseguitati. Puoi fare molto di più se operi in modo privato. Nel regime anticristo del tempo della fine, del quale già siamo agli inizi, non potete contare sulla legalità del sistema, come ci siamo abituati, viziati e cullati. Adesso, fratelli, è l'ora della saggezza. La Chiesa fedele, adesso speriamo di essere, va bene, cammina con saggezza. Non con i diritti, i diritti, lo stato di diritto del mondo, quello fumo negli occhi e basta, ma con la saggezza di Dio. I diritti del mondo li potete scordare. Possiamo già da ora solamente contare sul Signore e la sua saggezza. Solo su queste cose. Noi vediamo in Giosuè capitolo 2, che Giosuè manda due israeliti a Gerico. Due spie manda. Cosa fanno questi? Entrano in Gerico, ma com'è che entrano? Entrano come se facessero parte di Gerico. li scopriranno lo stesso, però entrano come se fossero Gerichesi. Non si mettono a criticare l'adorazione dei loro idoli. Anche se non erano d'accordo con i loro idoli. Erano d'accordo. Sì. Va bene. A quelli ci penserà il Signore. Cioè agli idolatri di Gerico. il Signore lo vediamo nel capitolo, nel sesto capitolo di Giosuè. Vediamo che il Signore si prende cura di quelli lì. Ci pensa a lui. In modo sornaturale. E quindi anche noi amati fratelli e sorelle siamo chiamati a esercitare piena saggezza e prudenza. Qui siamo in una specie di Gerico. Non puoi andare in giro a suonare le trombe. A volte sì, a volte no. lo Spirito Santo ti dirà quando. Ci troveremo sempre di più in situazioni nelle quali non potrai dire ai posseduti che sono al potere e che hanno torto. Non potrai. Non lo potevi fare nella Germania o nell'Italia dagli anni trenta. Non lo potevi fare sotto i sovietici. e non lo puoi fare, non lo potrai fare sotto il regime anticristo che c'è adesso, che tiene i media al guinzaglio come schiavetti. I media stanno solo ripetendo quello che il Dio di questo mondo il maligno dice. Come mai tutti i media? Ma non è che sono tutti i media, sono solitamente i direttori. Sono solitamente i direttori che se il giornalista non si allinea lo licenziano. Un giornale come il New York Times come creda la sera sufficiente mettono direttore. non è che tutti devono essere anticristo, basta un direttore. E allora la tanto sventolata libertà, virgolette, le leggi uguali per tutti, stati di diritto, virgolette, sono solamente slogan per gli allocchi. In realtà non esistono queste leggi. Non andate in giro a lamentarvi, ma questa democrazia è falsa, ma non l'avevi capito. Ma è tutta la messa in scena perché così le multinazionali guadagna. Ma non l'avevi capito ancora. La legge non è uguale. Non è uguale per un piccolo falegname o un disoccupato che non può neanche pagarsi una sola visita da un avvocato perché lo difenda. Non è uguale quanto lo è per un multinazionalista che schiocca le dita e subito dieci avvocati a fare la fila per l'ustrargli le scarpe. E non è uguale la legge. Che la legge dice metti un avvocato che ti difende. Grazie, io sono disoccupato. Quindi dobbiamo meditare bene sulle indicazioni dello Spirito di Dio, quello che Gesù ci dice, meditare. Guardiamo a Matteo 10. Sì. Ce l'hai? Sì. 16, per favore. Matteo 10, 16. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. 17. Guardatevi dagli uomini perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoge. Matteo 10, 16 e 17. Quindi Gesù ci ha dato gli avvertimenti. Non è che ci ha detto mettete avvocati, c'è la legge di diritto. La legge c'è, la legge romana che la studiano ancora oggi. La legge è buona, però è solo per i romani. E oggi è lo stesso. C'è la legge, è stato di diritto in ogni nazione. Ma è solo per i romani, però. È solo per le multinazionali. È solo per i capitalisti. È solo per le televisioni. È solo per i media. Tu, ignorante, che sei un piccolo operaio, dipendente, tu sei un dipendente. Tu dipendi. Non mi metti a livello delle media, a livello dei multinazionali. Loro sono i capi. Tu silenzio. Tu non possiedi niente e devi essere felice. Se ti lamenti, mangi i vermi. E se ti lamenti ancora, si ringate. Ancora ti lamenti. Lockdown. La legge, sì, c'è, ma solo per i romani. Una domanda, perché sto pensando alle spie in Gerico, che hai detto sono entrate in Gerico senza dare nell'occhio, senza dire noi siamo israeliti, noi adoriamo il Dio vero. Noi sì che conosciamo la Bibbia. No, anzi, sono entrati molto silenziosi solo per studiare la situazione nella città. Però loro avevano in piano una vittoria più grande dopo. Una vittoria per Dio. Esatto. Invece... Un'armagedda. Sì. Invece questo professore in Irlanda cosa dovrebbe fare se la sua fede... Perché è una storia di un professore cristiano che è stato arrestato. Cosa dovrebbe lui fare in questa situazione? Cioè dire niente come se lui non fosse cristiano e far finta che lui è d'accordo con quella persona che lo ha fatto arrestare? Beh, lui dovrebbe... Innanzitutto, secondo la sua fede, potremmo vedere quella della volontà di Dio nella sua vita. Non è che sia la volontà di Dio sempre la stessa per tutti. C'è il momento di morire come martire e essere imprigionato e c'è il momento di incidare nelle catacombe. No, perché dicevi c'è il momento anche di assecondare queste persone. C'è il momento di assecondare. Sì, infatti la parola dice che dice non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza. Perché affinché tu non... affinché tu non gli abbia a somigliare. Proverbi due devi andare. Proverbi due? C'è una bella scrittura, sì. Sì. 6 e 7. Proverbi due e 6. Il Signore infatti dà la saggezza. Dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità. Proverbi due, sei e sette. Ecco, qui vi andrà dal Signore e chiede la saggezza. Mi deve dare la scrittura 26,5 anche. Proverbi 26,5. Rispondi allo stolto secondo la sua folia, perché non abbia ad apparire saggio ai propri occhi. Proverbi 26,5. Esatto. Quindi a volte devi assecondare, capito? Devi semplicemente, tu vivi nella Germania nazista e magari lavori underground contro Hitler, però ufficialmente ti fai fatti i tuoi. Va bene. E quindi allora in privato puoi avere la libertà di Cristo, ma non in pubblico. In pubblico è il maligno che è in controllo. Sì, è vero. Capito? Sì. Ha detto, vi mando come peccone mezze lupi? Matteo 10, sì. Ecco, quindi quella scrittura è molto importante. Cioè, siamo in mezze lupi, non possiamo andare con la... come asinelli. No. Gesù dice astuti come serpenti. Siate prudenti. Siate prudenti, astuti. Guarda, è una cosa che dovete guardare bene, la nazione che siete, noi siamo in 60 nazioni. Dovete vedere bene quali sono i tabù locali, i fetici, gli idoli, che il sistema locale si è eretto. Nell'Occidente c'era quel suo stato di diritto, però i diritti li hanno falsati. Chiamano la tenebre luce, la luce tenebre e così la libertà c'è per i pervertiti, ma non per i cristiani. Hanno girato i loro idoli e tra di loro si sono messi d'accordo. Il cristianesimo non ha diritto, i pervertiti sì. È un po' come un tacito accordo sotto il tavolo. Quindi guarda, andiamo da Daniele capitolo 6. Qui c'è una lezione potente. Daniele 6. Sì. Verso 10 e 11 devi andare. Daniele 6, 10. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. Come faceva prima, questo è il suo sbaglio, invece adesso doveva farlo in un modo underground. Perché c'era un nuovo decreto? C'era un decreto che era proibito farlo questo. Verso leone. Daniele 6, 10, 11 e 16. Quindi qua Daniele, non so se era volontà di Dio che andasse ai leoni. Per esempio i cristiani perseguitati per secoli si rifugiano nelle catacombe e perché invece Daniele era tutto sfacciato davanti alla finestra. Secondo me, Dio l'ha usato per la sua gloria. Però secondo me non è il modo di fare. Infatti Gesù diceva nella tua cameretta, chiudi l'uscio e prega in segreto. Invece Daniele apriva le finestre, dice, qua dice verso 10, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme. Cioè questo non era complicato a farlo. Poteva pregare segreto. In privato, come dicevi, in privato puoi farlo tranquillo. In pubblico, attenzione, ci sono leggi contro. Sì, in privato abbiamo tutte le libertà in Cristo. In pubblico no. Che il diavolo ti tiene i binocoli puntati in questo sistema capitalistico che i media controllano le notizie. Quando eri in Germania, anni 30, ai binocoli di Hitler guardarono dappertutto attraverso le spie. Invece Daniele continuava a pregare, come era solito, a fare attenzione che non fate sempre come eravate soliti fare. Davanti alle finestre aperte, senza premunirvi. Le finestre sono un esempio. Ci sono mille altre precauzioni che dovete prendere. In quell'occasione con Daniele Dio fece un miracolo. D'accordo. Ma non è sempre così. Non è questo il modo normale per noi di comportarci nel regime anticristo che sta iniziando. Certo, vi è il tempo di insorgere, dare la vita come matri, c'è anche quel tempo. Ma normalmente dobbiamo usare saggezza, come fu per i primi cristiani che si nascondevano nella catacomba, dicevamo. Andiamo a Ebrei 11, per cortesia. Sì. Ce l'hai? Sì. 13, per favore. Ebrei 11, 13. Dici, tutti costoro, confessando di essere confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Esatto. 36. Altri furono messi alla prova con scherni frustate. E frustate, ok? Solo qualche stralcio. 37. Andarono? Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Eranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Ebrei 11, 13, 36 a 38. Va bene, quindi c'è il tempo, dicevo, che devi insorgere per la fede, dalla vita, come martire. Ma di solito, di solito, Gesù ci dice, siate astuti come serpenti. Gesù non ti chiama ad andare a suonare le trombe, ti chiama ad essere astuto come serpente. Perché? Perché sia davanti a un Hitler, a uno Stalin, a un sistema capitalistico come questo presente. Non puoi comprare un giornale che puzza come un ratto morto. Leggi il giornale, uh, come puzza, ti asfissia dalle bugie che ci sono dentro. Oh, signore, questo allora è quello che viene. Però non è ancora il momento di andare in giro in pelle di pecore e di capra. Quindi quando andate in centro della città, non vestitevi come le pecore, le capre. Non è il momento di andare nelle caverne. Arriverà magari. Adesso è il momento, come i due israeliti a Gerico. Devi parlare il gerichese, il religionese, il politichese. Andiamo, vai Matteo 24, verso 21. Matteo 24, 21. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non ve è stata dal principio del mondo fino ad ora, nemmai più vi sarà. Matteo 24, 21. Questo arriverà e sarà terribile, ma non è ancora adesso. Però bisogna prepararsi, perché viene, lo ha detto Gesù, viene. Falsi profeti dicono, non sappiamo quando viene, non lo sanno loro. Però la Chiesa fedele, speriamo di essere, va bene. Leggi i segni dei tempi, Matteo 24, e dice, caspita, i segni ci sono tutti. I falsi profeti dicono, no, ci sono sempre stati questi segni. Non è vero. Mai ci sono stati questi segni tutti insieme. Mai. Uno alla volta, uno qua, uno là. Adesso ci sono tutti, compreso Matteo 24, 14, che dice, il Vangelo è predicato in tutto il mondo. Quando è che è stato questo? Adesso, nella seconda parte del ventesimo secolo. Quindi ci siamo. I segni ci sono. Gesù dice, Matteo 24, 34, dice, questa generazione non passerà, che tutto sarà compiuto. Quanto dura il tempo della fine? Una generazione! Gesù sta tornando! E allora c'è il momento di gridare e dare la vita come martiri. Ci sarà il momento? come no! E poi c'è il momento, invece, come adesso, che semplicemente devi tacere. E come questo insegnante, forse, non voglio giudicarlo, non voglio giudicarlo, però, questo, Dio benedica questo insegnante, però, forse avrebbe dovuto fare questo. Cioè, buon viso, cattivo gioco. ed evangelizzare, diciamo, sotto banco. Guarda, in Matteo 22, vediamo una risposta che Gesù dà quando gli fanno una fatidica domanda. Qual è? A verso 17. Matteo 22, 17. Dici dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ecco, quindi questa domanda, Gesù ha annusato la puzza del ratto morto. Questa qui non è una domanda, è una trappola. Vabbè, perché c'erano lì le guardie, i soldati romani, eccetera. Che razze di domanda è questa? Era una trappola. Infatti Gesù dice, perché mi tentate, ipocriti? Che verso? A 18, al prossimo. A 18 dice, perché mi tentate, ipocriti. Comunque al 21, lui grazie a una saggezza, sapienza, che il mondo neanche si sogna, va bene, dice al 21, e Gesù disse loro? E Gesù disse loro, rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio. Matteo 22, 17 a 21. Benissimo, capito? Qui Gesù ha dato una risposta che è senza uguali. Una mente carnale non può rispondere così. Qui c'è voluta la mente di Dio, che Gesù aveva. Allora, vediamo che Gesù non si degna neanche di rispondere alla provocazione. Non risponde alla domanda. Non dovete rispondere alle domande che non volete rispondere. E come fate? Rispondete con una domanda. Cioè, Gesù poteva dire, ma Cesare è un anticristo, non si merita niente, non dovete essere leali a uno così. Invece no. Lui dà una risposta saggia per tenersi fuori problemi, ma anche per dare un messaggio. E capito? Quindi rendete acceso al che è di Cesare. Quindi Dio onora quelli che sono al potere. Quindi questo insegnante che hanno arrestato non è che ha sbagliato. Solamente che io mi sarei accertato se Dio veramente mi chiamava a dare testimonianza da carcerato o da libero. E come sarà la differenza? Quando è il momento di importarti per la tua fede o quando è il momento di morire come martire? No, ma tu devi imparare a pregare e ricevere da Dio. Devi imparare a riconoscere la sua voce. La Chiesa vera conosce la voce di Dio. Per questo che Gesù dice alla Chiesa nominale, Matteo 7,21, 7,21-23, Gesù dice alla Chiesa nominale, non vi ho mai conosciuto, andate bene via. Cioè, solamente chi conosce Dio riceve da Dio. Se tu preghi e non ricevi mai niente, forse tu non lo conosci Dio. Perché? Devi o ricevere il battito su Spirito Santo, o pregare e digiunare, o decidere che stai adorando idoli al di sopra di Dio, un santo di qui, un santo di là, la televisione, l'internet, il mondo. E un pochettino anche a Dio la domenica mattina. Perché? Ma anche lui, poveraccio. No, caro? Non è così che ascolterai Dio. Ma in chiesa la domenica mattina ascolterai il pastore. E speriamo che predica bene, eh? Nessun pastore predica bene in nessuna chiesa che non ti insegna ad ascoltare la voce di Dio di persona. E se non l'ascoltate, il pastore dice Alt! Fermiamo la baracca. Pausa! Pregare e tutti e digiunare per ricevere da Dio. Io ho sempre detto alla nostra comunità qui, fratelli, se qui c'è un fratello che non riesce a sentire la voce di Dio, non durerà a lungo. Che il dialo verrà, comincerà a dire Guarda, quel fratello lei è del diavolo. Il pastore è ingannevole. Se non ascolti da Dio, come fai? Rimanere in una chiesa vera. La prima cosa che ti dice il diavolo è che è una chiesa falsa. Fa questa chiesa, vale quanto? 30 denari di argento. Vai Giuda! Perché questa è una chiesa falsa. E se tu non... Giuda non... Il problema che aveva è che non riusciva a ascoltare la voce di Dio. Questo è stato il suo problema. Perché? Non aveva comunione. Abbiamo noi comunione? Questa è la domanda da farci. Se non ascoltiamo... Se non riusciamo a profetizzare, non riusciamo... Ma non dico profetizzare... Ma almeno sapere se devi andare a destra e a sinistra. E può darsi che tu non conosci Dio. Non sei sul libro dell'agnello. Sei sul libro della vita. Pocalisse 3.5. Può essere cancellato. Non si scherza. È una cosa seria. Prega e digiuna oggi. Non aspettare domani. Domani è troppo tardi. Oggi devi pregare e digiunare. E continua a farlo. Anche se solamente un pochino tutti i giorni. Dedica un po' di preghiere e digiuno tutti i giorni. Va bene? Mezz'ora, un'ora per studiare la parola. Due ore, tre ore, quello che puoi. Va bene? Per imparare ad ascoltare la voce di Dio. Nella nostra comunità dello spirito qua... Io l'ho detto diverse volte. Nessuno di noi può rimanere qui se non impara ad ascoltare la voce di Dio. Perché apre internet. Uh, frate Giuseppe così. Uh, frate Giuseppe cos'ha. Uh, uh, uh. Chi ha ragione? Devi ascoltare la voce di Dio. Sì, quello sì è vero. Però nello stesso tempo vedo anche come dobbiamo cambiare anche le nostre abitudini. Come dicevi Daniele, non doveva continuare come ha fatto sempre aprire le finestre. Devi cambiare abitudini e modo di pensare. Per esempio Giuseppe, io ti conosco a te da vent'anni. E lo so che quando sei... Eh, ero giovane, eh. Ero giovanotto. E anche io. Quando sei davanti a una persona, io lo so che tu non trattieni la verità. Anche se ti metti nei guai. Cioè tu dai la verità in amore, però tu dici quello che deve essere detto. E devo avere una rivelazione per non darla. Deve essere, non so, devo attraversare una frontiera e mi devono dare il visto di ingresso. Lì non evangelizzo. Un vicino di casa, no. Ma se non c'è una rivelazione così, non puoi rinnegare Gesù, eh. Per esempio, penso, se tu fosti nei panni di questo professore, tu daresti la verità. È così che io ti conosco. Tu non hai fatto mai compromessi a questo tipo di persone. Tu dici quello che la Bibbia dice. Però adesso sto pensando, dobbiamo cambiare questa abitudine e sempre, ogni volta, sentire subito dal Signore, dallo Spirito Santo, cosa faccio in questa situazione adesso. Certo. Perché anche io sono abituata a fermare tutto. Quando ho una capra davanti a me, gli dico la verità o no? Di solito non facciamo compromessi. Perché mi sembra un compromesso non dirgli quello che Dio dice. Però c'è un momento che Gesù diceva non dire a nessuno che sono il Cristo. Giovanni V gli ha detto io ti ho guarito, ma non lo dire a nessuno. Cosa c'è da nascondere? Gesù. Criminale. Nascondere che tu guarisci. Persino i suoi fratelli criticavano. Se tu fai queste opere, perché non vai e ti mostri al mondo? Giovanni capitolo 7. All'inizio. I fratelli criticano Gesù. E caprette, eh, i fratelli carnali. Come i fratelli di Giuseppe. Va bene. E Gesù invece c'è il momento di suonare la tromba. Ma c'è il momento di stare in silenzio. Quindi vedere cosa dà più gloria a Dio. Certo. Mi hanno invitato in una chiesa, a predicare in una chiesa, perché volevano capire chi ero. Ti ricordi nel tuo paese, nel tuo paesotto, c'eri anche tu? Ah sì, la chiesa Battista? Sì, mi hanno invitato a predicare. E io dico, beh, benissimo, andiamo là e insegniamo un po' di profezia. Andiamo, andiamo, tutti pronti. Andiamo, pronti. Eravamo ospiti di una casa lì. Anche il padrone di casa, presto e presto, tutti inghinderindati, tutti battisti. Erano sette di sera. Sì, sì, sì. Tutti eccitati. Ah, andiamo, andiamo. A un certo punto sento la voce, cosa stai facendo? Signore, sto andando a predicare. Sì. Ma mi hai chiesto a me. Opp! E allora cosa ho detto, Angelo? Usciamo fuori per una passeggiata veloce e chiediamo al Signore cosa fare. Dovevo essere in chiesa dopo 15 minuti, una cosa così. Infatti c'era, che è Nelly, si chiamava questa dolce ragione. Nelly, sì. La moglie dela. E mi fa, dove andate? Fa, guarda, andiamo. Ma no, ma non andate via, che cominciano, comincia la preghiera. Non andate via, che dobbiamo venire a cercare. Guarda, dacci poche minuzze. Ok, mi raccomando, tornate. Siamo andati fuori, attraversiamo il giardino, ti ricordi, apro il cancelletto, c'è un cancelletto di legno. Appena metto il piede fuori dal perimetro della casa, bang, come un'esplosione. Non andare! E perché ci sono mai parlato prima? Dovevo appartarmi. Dentro là c'era uno spirito totalmente religioso, non riuscivo a ascoltare la voce del Signore. Tutto sembrava logico che andiamo a predicare. Logico, io sono missionario. Uh, che bel posto, un tappeto rosso lì per terra. Noi camminiamo su, andiamo a predicare. Gloria al Signore. Sì, infatti, io non mi aspettavo a questo cambiamento, perché mi sembrava logico che andiamo. Erano tutti così positivi, entusiasti del messaggio. Volevano condividerlo nella Chiesa. Era una cosa così positiva, così super, che io ho pensato sicuramente andiamo. Infatti abbiamo detto sì, andiamo. Sì, ho detto andiamo. Erano una ventina di persone che si sono radunate lì per ascoltare. Tutti pronti. Nella casa privata. Nella casa privata. Nella casa privata. E dovevamo andare tutti insieme, perché sembrava che sì, che andiamo. Come no? Che opportunità, dare il messaggio a più persone. Però tu hai detto usciamo a pregare. E poi hai detto no, non andiamo. È stato uno shock per me. È stata un'esplosione. Non andare. Ero un po', mi vergognavo entrare dentro e dire a tutti abbiamo cambiato idea, non andiamo più. Scusate. E perché? Non lo so perché. È così. Infatti è stato un piccolo scandalo. Ma come? Come non venite? Ci avete detto che venivate. Sì, sì. E poi non mi ricordo. No, non veniamo perché questo e quell'altro. E ci sono offesi tutti in Chiesa. Però dopo si è scoperto e avevano cominciato a perseguirci. Sì, sì, sì. Volevano solo ascoltare per dirci che avevamo farsi profeti, che non erano d'accordo. Li abbiamo ascoltati e sono del diavolo. C'è anche questo trucco, eh? E allora cosa fa? E non andare. E infatti è stata una rivelazione che poi quella Chiesa si è sfaciata completamente. Sì. Va bene? Si sono presi anche a botte, se ho capito bene. Era una Chiesa. Sì, hanno litigato per chi ha pagato per le cose dentro la Chiesa, che tutti hanno messo soldi e poi hanno cercato di dividere chi ha pagato per questo, per quello, un edificio immenso e alla fine è stato un disastro. Sì, sono arrivato anche alle mani. Quindi è stato il Signore che si è andato a non andare. La Chiesa non è degna di nessuna predicazione. E allora a volte è così la storia. Quindi non è che tutte le porte aperte sono del Signore, eh? Wow. Quando diceva va a Ecclesiaste 3, per cortesia. Sì. Ascoltiamo cosa diceva Salomone sul fatto quando è il tempo che predicare, non predicare, insorgere oppure no. Capitolo 3, verso 1. Ecclesiaste 3, 1. Sì. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Ok. E verso 3, un tempo? Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Avanti. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Ok. E 7, un tempo per? Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Voi avanti. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Ecclesiaste 3. Gloria al Signore. Hai capito? Quindi non è che è sempre tempo di predicare il Vangelo. C'è il momento di andare in catacomba. C'è il momento che devi andare le spie di Gerico vanno in internos. Quindi, fratelli, la cosa che vi servirà molto il tempo dalla fine è la saggezza. Le guerre si vincono con la saggezza, non con la potenza. Elia, no Elia, Golia era potente e ha perso davanti a un pastorello, Davide, con una fionda. Gli americani erano potenti in Vienna e hanno perso davanti a dei guerriglieri Viet Cong. Quindi, guarda, non lo so, potrebbe essere volontà di Dio che quest'uomo vada in prigione, quindi non voglio metterci lingua. Non lo so cos'è il piano di Dio nella sua vita. E non lo escludo. In prigione può causare la rivoluzione che cambiano le leggi, non lo so, anche se so che le leggi andranno di male in peggio. Quindi non so se Dio vuole che vada in prigione come una specie di martire o magari fare lo sciopo dalla fame. Dio può usare anche quello. Va bene. Ma andiamo a proverbi cos'è abbiamo questo qua? Guarda, torniamo a quel proverbio lì di nuovo. Torna a proverbio 26, per cortesia voglio regge di nuovo. Proverbi 5, sì. 26. Perché a volte c'è, capito? Proverbi 26, 5. Rispondi allo stolto secondo la sua follia perché non abbia ad apparire saggio ai propri occhi. Amen. Però verso 4 dice non rispondere allo stolto secondo la sua follia perché tu non gli debba assomigliare. Ecco. E uno dopo l'altro dice rispondere sì, non rispondere. Ecco, legge nel 4 in progresso. Capito, fratelli? la Bibbia ti dà questo poi ti dà il contrario perché deve essere guidato lo Spirito Santo. Se tu vai con la zucca quadrata non sai più. Rileggi e comincia dal 4. Proverbi 26, 4 e 5. non rispondere non rispondere allo stolto secondo la sua follia perché tu non gli debba assomigliare. Rispondi allo stolto secondo la sua follia perché non abbia ad apparire saggio ai propri occhi. Proverbi 26, 4 e 5. Va bene. E allora devi ascoltare la voce di Dio. Va bene. Devi ascoltare la sua parola, la sua voce perché vedi apri la Bibbia vediamo così Dio mi dice sì bisogna vedere non è mica sempre che ti risponde spalancando la Bibbia. No. Va bene. È lo Spirito Santo che guida adesso a destra poi a sinistra tu guidi una bicicletta non è che giri sempre a destra. Devi vedere adesso di qua adesso di là non rispondere allo stolto poi dice devi rispondere allo stolto. Va bene. Dio ci aiuti. A volte bisogna secondare i pazzi non è che puoi sempre dire è un pazzo che lui non ragiona. Io credo che salvo una rivelazione di Dio cosa avrei fatto io senza giudicare questo insegnante Dio lo benedica che sta insorgendo per una cosa giusta. Però normalmente se Dio non mi dà una rivelazione va bene. Avrei cercato di continuare a testimoniare di Gesù testimoniare della verità e della salvezza in privato agli studenti quando potevo qua e là dove si può magari ottenendo maggiori risultati non lo so. Puoi evangelizzare puoi fare buon viso a cattivo gioco e sotto sotto predica il Vangelo. Insomma ripeto dipende dalla fede di ciascuno non posso giudicare questo uomo. E allora bisogna vedere cosa porta più frutto. entro un certo limite ci sono cose che non puoi rinnegare non puoi far finta di niente non puoi dire non credo in Gesù questo non puoi farlo però puoi andare a Gerico far finta che sei un gerichiano e in Germania fa finta che sei nazista ma lo sai no faccio finta ma stai rinnegando sì no 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 se tu mi chiedi sì o no c'è un limite quanto poi travestiti da pagliaccio giusto sì quindi negli anni come tutti i missionari del Vangelo a tempo pieno sanno anche io ho dovuto imparare a poter evangelizzare in situazioni difficili dove il maligno lo aveva proibito ho dovuto impegnarmi a studiare la saggezza di quello che Gesù ha detto cos'ha detto Gesù Matteo 10 ha detto verso 16 vi mando come pecore in mezzo ai lupi siate prudenti dunque come serpenti semplici come le colombe Matteo 10 16 va bene quindi Gesù ci dice siate prudenti come serpenti che razza di paragone che tira fuori io non voglio essere un serpente Gesù dice sì deve avere la sua saggezza i serpenti sono dappertutto non li vedi mai certo se li calpesti ti mordono pensano che li stai attaccando infatti in India nei villaggi vedi che le donne portano delle campanelline attaccate alle caviglie perché i serpenti si spostino il pericolo i serpenti di solito non ti attaccano il pericolo è quando tu per sbaglio quella è nell'erba magari stai facendo un pisolino dormono anche i serpenti e quello penso che lo stai uccidendo ti morde tu non avevi nessuna intenzione quindi metto campanelline le caviglie interessante per dare un esempio di quello che parlo Paolo predicava al cento per cento contro la circoncisione vedere epistola dei Galati era contro la circoncisione però la sapienza di Dio vediamo in atti capitolo 16 gli aveva mostrato su come districarsi e difendersi in situazioni difficili per esempio nella circoncisione di Timoteo ce l'hai atti 16 1 a 3 atti 16 1 a 3 giunse anche ad erba e a listra e là c'era un discepolo di nome Timoteo figlio di una donna ebrea credente ma di padre greco di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a listra e a iconio Paolo volle che egli partisse con lui perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi capito Paolo acerrimo difensore della circoncisione spirituale non fisica qui circoncide Timoteo è come io frate Giuseppe che io predico che ho batteso dall'acqua è secondario adesso c'è quello dallo spirito adesso vado in giro per attenzarmi all'acqua l'ho già fatto lo farò di nuovo se servisse la testimonianza del pendimento ma adesso il pendimento è nello spirito santo anzi lo spirito santo ti guida al pendimento l'acqua non ti guida in nessuna parte è solo un simbolo che può essere perfettamente ipocrita d'accordo quindi Paolo che predicava contro la circoncisione qui sta circoncidendo circoncidendo Timoteo capito il punto? quindi c'è un tempo e Paolo era contrario però lì facevo buon viso cattivo gioco facevo come le spie di Gerico che si fingevano abitanti di Gerico disonesti vi siete travestesi allora però è così che il Signore ci ha guidato a travestirci quindi devi vedere la situazione e poi quando sono arrivate le guardie dalla casa in dove sono nascosti in un bordello sono entrati a Gerico e c'era un bordello lì c'era una direttrice lì si chiamava Rahab Rahab si chiamava vedete Giosuè capitolo 2 diciamo sei alla Bibbia e ci sono cose sorprendenti vanno lì da lei da lei si nascondono lì infatti lei li ha nascosti sul tetto poi sono arrivate le guardie del re e dice abbiamo saputo che c'è degli ebrei qui e lei cosa gli ha detto sono partiti sono andati via e invece erano sul tetto a dormire a nascondersi e allora c'è il momento di ingannare il diavolo e lei ha detto una cosa esattamente il contrario quindi se un giorno vengono l'anticrisi e dicono ah tu qua stai nascondendo i cristiani nella tua cantina io e da quando e magari i cristiani sono là che leggono la Bibbia in cantina ma no sono andati via correte così ha detto Raab presto correte che li prendete corri corri e sono tutti corsi sulla montagna a cercare ritrovato niente era una casa di Raab quindi lei li ha ingannati c'è il momento di ingannare il diavolo frate Giuseppe che vangelo mi predichi devi dire sempre la verità sì ma non al diavolo sì se no diventi traditore Giuda ha detto la verità al diavolo dove Gesù abitava sì va bene se tu ti dici la verità ai nemici di Dio non sei veritiero sei intraditore la risposta migliore che puoi dire non lo so non lo so come quei quei frati monaci che sulle montagne i nazisti arrivavano durante la guerra e con i mitra cercano avete partigiani qui in convento lui con le mani in tasca che si frugava le tasche di qui non sono passati cioè dalle sue tasche invece erano dentro nascosti armati fino ai denti non puoi dire la verità al diavolo la saggezza allora solamente se chiederemo allo Spirito Santo di guidarci di darci la sua guida potremo essere un passo più avanti del nemico Proverbi 2 quindi sempre chiede allo Spirito Santo se non chiediamo guida allo Spirito Santo cascheremo non forse di sicuro nella trappola nella saccoccia del diavolo versi 6 e 7 Proverbi 2 6 e 7 il Signore infatti dà la saggezza dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente uno scudo per quelli che camminano nell'integrità Proverbi 2 6 e 7 questo verso è bello ripassarlo ripassarlo perché perché senza l'intelligenza dello Spirito Santo del Signore non ce la facciamo contro il diavolo non ce la facciamo quando siete fratelli in situazioni difficili non sapete cosa fare allora è il tempo di Gesù il tempo di raccoglierci in preghiera e certamente sarà successo a tutti voi cioè personalmente io i più grandi sbagli li ho fatti quando credevo di sapere cosa stavo facendo io so cosa sto facendo so cosa faccio bravo come se furbo e a volte ci ho messo anni a rimediare per le cose che sapevo cosa fare ero così sicuro che sapevo che non ho avuto neanche bisogno di chiedere al Signore perché e questo è logico chiedere al Signore ma non serve si è una preghierina così bla 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 alleluia alleluia andiamo forse è logico che il Signore vuole questo ah si ti sei disperato e questa è una decisione è una decisione anche importante ti sei disperato a mezzo del tuo cuore l'anima e lo spirito beh no però sai stamattina ho pregato con i fratelli così e adesso più o meno so cosa devo fare stai attento perché prima di firmare un contratto comprare una terra venderla prendo il biglietto aereo non prenderlo viaggiare non viaggiare sposarti non sposarti insomma attenzione ci possono volere anni a volte per rimediare una decisione presa senza avere prima chiesto al Signore posso darti esempi biblici mi manca lo spazio davanti a qualsiasi decisione va bene quando non vogliamo sbagliare allora fratelli facciamo questo andiamo dove un posto in un posto dove possiamo pregare da soli magari anche solo in pochi passi come la testimonianza abbiamo condiviso prima abbiamo chiesto alla patrona di casa dobbiamo spostarci un momentino per cortesia non so avremmo fatto non so 20-30 metri neanche 40 metri 30 metri sì sì fino al cancelletto ha permesso un piede uno non due fuori dal cancello e il Signore mi ha parlato perché perché io ho onorato il Signore insieme a te anche tu lo abbiamo onorato di andare a cercarlo andare a chiedergli e il Signore si è visto onorato ed ha risposto e ci ha salvato da grossi problemi va bene grazie al Signore a me quindi facciamolo fratello a volte bastano pochi minuti a volte pochi secondi la persona davanti a te non puoi andare a fare un giretto ma nella tua testa nella tua zucca segreto la tua mente puoi pregare in lingua e il Signore ti risponde a volte semplicemente staccarsi da chi sembra sapere tutto c'è una persona che lui sa tutto staccati e quindi staccarsi per dare l'onore a Dio o c'è gente che vuole convincerti loro sanno tutto assistati sono pericolosi stai attento separati da quella gente vai dal Signore lui è sempre lì ad aspettarti Gesù è come un postino sarà lì come un postino con una lettera in mano e dentro la lettera c'è la risposta preziosa di Dio e quindi andare in quel benedetto luogo trovare un luogo dove possiamo chiedere al Signore di guidarci di darci la sua saggezza per cosa se dobbiamo fare una cosa o no se andare a destra o a sinistra se dire sì o no se unirsi o separarsi se perdonare e camminare insieme oppure magari sempre perdonandosi per andare per strade diverse è una decisione perdono e lavoriamo insieme o perdono sinceramente però lavoriamo separati e questo solo Dio te lo può dire allora se se onoreremo Dio e gli diamo il primo posto e gli diamo l'onore che gli spetta e lo cercheremo in primo luogo allora e solo allora Lui ci benedirà e ci darà la risposta che cerchiamo ci mostrerà la via ci dirà per filo e per segno cosa fare specialmente cosa non fare appianerà i nostri sentieri e a volte persino riconcilierà i nostri nemici Matteo capitolo 6 perché qui c'è il prezzo il prezzo da pagare per avere queste benedizioni per avere udire la sua voce avere la risposta che ci salverà da disgrazie quanto costa Matteo 6 33 cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più Matteo 6 33 Matteo 6 33 va bene Angela a te Dio ti benedica nel nome di Gesù Cristo Amen grazie per la pazienza per aver ascoltato e benedica i fratelli il Signore benedica anche loro grazie Gesù per la loro pazienza Amen Amen grazie Gesù ti lodo Signore ascoltiamo il canto Fede Aspetare in silenzio Nei momenti più difficili credere in Dio anche quando le forze vengono in meno quando sei in un piccolo cieco quando pensi che Dio ti abria abbandonato la fede viene meno perché non trovi via riuscita sei rimasto senza forze e non ce la fai più no non ce la fai più non ce la fai più non ce la fai più si sperano dimostrazione di cose che non si vedono non si vedono non si vedono si sperano se supererai se su Dio ti imponcerai non dubitare non allenderti mai se su Dio ti imponcerai se su Dio ti imponcerai la sua gloria te imponcerai se ne è certezza di cose che si sperano si sperano dimostrazione di cose che non si vedono 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 se per Dio avrai io non ti sposterai è più in alto delle prove vuole non si vedono non si vedono non si vedono non si vedono